Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare della motilità cellulare e in particolare di ciglia e flagelli. Se ancora non l'hai fatto ti consiglio di andare a vedere il video sul citoscheletro, dato che in questo video parleremo di molte strutture che avevamo già citato. I microtubuli di tubulina entrano in gioco infatti in delle strutture come le ciglia. Le ciglia sono delle strutture allineate in modo regolare e parallele tra di loro. Sono formate da una porzione fissa nella cellula e una porzione libera in grado di muoversi. La porzione libera ha una membrana che è in continuazione della membrana plasmatica del polo apicale della cellula, mentre i tubuli continuano con un corpuscolo basale all'interno della cellula. Alla base del movimento sono presenti delle strutture particolari costituite da microtubuli che entrano proprio all'interno di ciascun ciglio nella parte apicale. In sezione il ciglio ha una struttura particolare. Nella sezione trasversale di un ciglio si trova una struttura chiamata assonema che ha una disposizione definita 9 più 2 ed è formata da un insieme di tubuli paralleli tra di loro e divisi in due gruppi, cioè una coppia centrale e 9 coppie periferiche e ordinate. I due centrali hanno una sezione circolare e sono separati da un piccolo spazio per tutta la lunghezza e sono ricoperti da una guaina. Le 9 coppie periferiche sono costituite da due microtubuli uniti tra di loro, infatti sono parzialmente fusi e decorrono addossati l'uno all'altro. Nella coppia uno viene definito tubulo A, mentre l'altro tubulo B. Il primo presenta un diametro più piccolo e completo e si trova più ravvicinato alla coppia centrale e inoltre porta due bracci uncinati costituiti da dineina che protendono verso i tubuli B e li toccano in modo transitorio e dipendente da idrolisi di ATP. I due microtubuli centrali e il tubulo A sono formati da 13 protofilamenti, caratteristica che si ritrova nella maggior parte dei microtubuli, mentre il microtubulo B da 10 a 11. La porzione fissa del ciglio comprende la zona di transizione o piastra basale, poi il corpuscolo basale e il sistema delle radici, dette radichette cigliari. La piastra basale è tra assonema e il corpuscolo basale. Il corpuscolo basale presenta una forma cilindro ed è formato da 9 triplette di microtubuli disposti perifericamente e infatti la coppia di microtubuli centrali a livello della piastra si interrompono mentre continuano con i tubuli A e B della tripletta del corpuscolo basale. Le radici o radichette sono delle strutture sottili che emergono dal corpuscolo. Per quanto riguarda il movimento ciliare, questo è un movimento a frusta, prima in un senso e poi nell'altro. Le ciglia delle cellule adiacenti si muovono in modo non sincronizzato e permettono lo spostamento di fluidi oppure nell'ovidotto permettono lo spostamento degli ovuli maturi verso l'ovario. Il movimento è scomponibile in due fasi, una fase attiva e una di recupero. In questo modo il materiale liquido e le particelle bloccate nelle ciglia possono essere spinte in una sola direzione. Questo movimento segue il piano di vibrazione del ciglio. Nella fase attiva il ciglio è in estensione o leggermente curvo e descrive un angolo di 180 gradi intorno ad un punto fisso. Alla fine di questa fase il punto più prossimale inizia il movimento di ritorno, delineando una piccola curvatura che arriva fino alla parte più distale facendola ritornare nella posizione di partenza. In molti epiteli il movimento delle ciglia è coordinato. Si può avere un ritmo isocrono o uno metacrono. Nel primo le ciglia battono all'unisono nella stessa direzione. Nel secondo caso invece ogni ciglio si trova in una posizione leggermente avanzata rispetto a quello che lo precede, venendo così a formare delle onde. Il movimento è dovuto allo scorrimento di microtubuli dell'assonema, determinato da cicli di funzionamento di un ponte di dineina. La dineina in condizioni di riposo è situata a 90 gradi rispetto al tubolo B, che in seguito all'idrolisi di ATP e al rilascio dei prodotti deve prima legarsi e poi spostarlo. Se vuoi approfondire le dinamiche di movimento dei microtubuli ti consiglio di andare a guardare il nostro video sui motori molecolari, in cui ne abbiamo parlato nel dettaglio. I flagelli assieme alle ciglia rappresentano il mezzo di locomozione principale delle cellule e sono visibili come delle strutture filiformi che sporgono dalla struttura cellulare. I flagelli sono delle strutture tipicamente batteriche, nello specifico di protozoi e bacilli che vivono in un ambiente acquoso. I cocchi, ad esempio, prediligendo un ambiente più secco ne sono sprovvisti. I linea di massima sono riconducibili a qualsiasi linea cellulare che abbia la necessità di spostarsi in un ambiente acquatico o comunque in un ambiente liquido. I flagelli sono presenti sia a livello delle cellule eucariotiche che a livello di cellule procariotiche, ma i due presentano delle differenze morfologiche sostanziali. Per quanto riguarda però il flagello procariotico ne parleremo nel dettaglio in seguito. Concentriamoci invece sul flagello eucariotico. Questo si compone di una parte più esterna che conserva la presenza della flagellina e una parte più interna che è chiamata assonema ed è formato da un numero specie specifico di coppie di microtubuli che sono assenti nei flagelli procariotici. Come sappiamo i microtubuli, come per le ciglia, sono formati dalla polimerizzazione della tubulina. Il cinetosoma è il sito di attaccamento del flagello che arriva fino all'interno della cellula, definendo il flagello come un prolungamento del soma. Un esempio tipico di flagello eucariotico è senza dubbio riconducibile alle cellule gametiche maschili, ovvero gli spermatozoi. Ad ogni modo, i flagelli eucariotici e procariotici per la biologia sono delle strutture analoghe, ma non omologhe, in quanto hanno delle strutture differenti ma una stessa funzione. Questi, infatti, sono necessari per lo spostamento della cellula nello spazio. I flagelli eucariotici si muovono similmente a una coda e sono quindi posizionati in direzione opposta al movimento. Quelli procariotici invece si muovono di modo rotatorio. Gli organismi flagellati sono generalmente classificati sulla base del numero dei flagelli presenti sulla cellula e sulla loro disposizione spaziale sulla superficie della stessa. La divisione si ha in monotrichi, anfitrichi, lofotrichi e peritrichi. Nello specifico i monotrichi presentano un solo flagello a livello di un'estremità cellulare. Gli anfitrichi invece presentano più flagelli ma sempre alle estremità. I lofotrichi invece vantano un ciuffo di flagelli a un'estremità. E infine i peritrichi possiedono più flagelli uniformemente distribuiti sulla superficie cellulare. Detto ciò abbiamo terminato questo piccolo approfondimento sulla motilità cellulare. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi contenuti e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Grazie per l'attenzione e a presto!